Digitalizzazione degli adempimenti, nuovo responsabile tecnico, Ecomondo è sempre un momento importante per l'albo, per fare un bilancio e quest'anno il bilancio è importante. È importante perché è da un anno che è partito il nuovo regime riguardante la idoneità del responsabile tecnico, che è diventata una cosa seria finalmente, un'idoneità che si consegue mediante partecipazione ad esami tenuti presso l'albo e non più mediante partecipazione ad appositi corsi tenuti da enti presso le regioni. Il primo anno hanno partecipato circa 4.000 candidati alle prove per l'idoneità di responsabile tecnico. Si è partito da percentuali veramente basse, dal 10% di promossi, per arrivare fino al 30%. Questo ci dice che probabilmente se si studia si riesce a superare l'esame, quindi un esame sicuramente non difficile ma sicuramente impegnativo. Già questo ti dimostra che non è più la vecchia figura del responsabile tecnico, il pezzo di carta che ci voleva per essere iscritti all'albo, ma è una qualificazione di questa figura e di conseguenza una maggiore qualificazione dell'impresa. Un elemento di professionalizzazione del settore, quanto invece a sburocratizzazione, semplificazione e digitalizzazione, che cosa è stato fatto dall'albo nell'ultimo anno? Nell'ultimo anno abbiamo licenziato la delibera che consente ai raccoglitori di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi di iscriversi all'albo con una procedura semplificata. Ovviamente le condizioni sono di una limitata quantità di rottami che possono essere raccolte e trasportate con l'iscrizione all'albo, veicoli piccoli. Quindi si è trattato di disciplinare un settore marginale ma importante perché da quanto sappiamo molto materiale agli impianti arriva da questi soggetti. All'orizzonte c'è la digitalizzazione delle scritture ambientali, il processo è partito al Ministero dell'Ambiente, che ruolo giocherà l'albo in questo percorso? Per ora noi siamo stati chiamati a consultare in via preliminare le categorie interessate, quindi è in corso di svolgimento questa consultazione. Io credo che l'albo sia uno strumento formidabile in mano al Ministero per poter avviare una nuova digitalizzazione e una tracciabilità che sia tale veramente delle movimentazioni dei rifiuti, una tracciabilità che non deve essere, come dire, tra virgolette punitiva, una tracciabilità che ha a che fare con dei delinquenti, ma deve essere un servizio nei confronti delle imprese che svolgono un servizio pubblico di estremi interessi. Lei ha parlato di una tracciabilità punitiva, il riferimento al Sistri era palese. Siamo arrivati al Capolinea con quel sistema? Speriamo di sì, non dipende da me perché non legifica, l'albo non legifica, ma speriamo sicuramente di sì. Speriamo di partire con una cosa con il piede giusto finalmente. Speriamo di partire con il piede giusto.